La denuncia è in sostanza l'arma vincente. Queste le parole del comandante dei carabinieri della provincia dell'Aquila, Michele Mirante, che ha voluto lanciare un importante appello in merito alla violenza sulle donne all'indomani del tentato femminicidio-suicidio di Capestrano. Mirante ha invitato tutte le donne a denunciare presso le diverse stazioni dislocate sul territorio dell'Aquila o tramite chiamata 112 al primo segnale di violenza. La raccomandazione principale è quella di segnalare. Tutti dobbiamo renderci conto che è necessario segnalare, parlare e far emergere qualsiasi disagio che avviene soprattutto all'interno delle coppie. Questo vuol dire non andare a intaccare quelli che sono i momenti intimi di pravisi ma vuol dire prevenire quelli che possono essere gesti terribili come quelli che sono accaduti. Un monito che acquista ancora più valore una decina di giorni dalla giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, una ricorrenza vicina al quarto di secolo eppure si continua a scrivere e a narrare di aggressioni e violenza nella peggiore dei casi anche di femminicidio. Intanto la comunità di Capestrano è sempre più scossa per quanto accaduto. Non è mai successo niente a Capestrano, un paese tranquillo. Nessuno se l'aspettava. È stata una sorpresa veramente. Cosa del genere non dovrebbero succedere. Purtroppo sono successi.